fissato nell'idea dell'uguaglianza un gallo scrisse all'aquila compagna siccome te ne stai sulla montagna bisogna che abolimo sta distanza perché non è né giusto né civile che io sia fra la monnezza d'un cortile ma sarebbe più commodo e più bello di vivere nel medesimo livello l'aquila gli rispose caro mio accetto volentieri la proposta volemo fa amicizia so disposta ma non pretende che m'abbassi io si te senti la forza necessaria spalanca l'ale e viettene per aria se non t'abbassa l'anima di fallo io seguito a fa l'aquila e tu ergallo grazie